Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Se amate restare aggiornati sul mondo dei reality show e storie toccanti, non dimenticate di iscrivervi e di lasciare un like. Ogni settimana portiamo nuovi contenuti e approfondimenti che non vorrete perdervi. Oggi parliamo di Beatrice Luzzi, una delle concorrenti più amate del Grande Fratello, che ha recentemente affrontato un momento estremamente difficile. Il 3 gennaio, Beatrice ha ricevuto una notizia devastante. La morte del suo caro padre Paolo. Questo triste evento ha costretto l'attrice romana a fare una scelta difficile, rimanere nella casa del Grande Fratello o lasciare temporaneamente i reality per elaborare il suo lutto. La notizia ha scosso non solo Beatrice, ma anche i suoi compagni di avventura e il pubblico a casa, creando un'ondata di cordoglio e solidarietà nei confronti della concorrente. Il destino di Beatrice all'interno del programma è ora incerto. Con la partecipazione sospesa e il televoto annullato per rispetto, si pone la domanda Beatrice sceglierà di tornare e continuare il suo percorso nel Grande Fratello? La sera prima della notizia, Beatrice aveva condiviso ricordi affettuosi del padre, descrivendolo come un uomo bellissimo ed elegante, parole che ora assumono un significato ancora più profondo. Resta da vedere quale sarà la decisione di Beatrice. Cosa ne pensate voi? Rientrerà nella casa del Grande Fratello o sceglierà un percorso diverso? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi per rimanere aggiornati. Grazie per averci seguito e alla prossima!